Sì, ci tengo a leggere il primo punto dell'ODG, anche perché è un tema che è stato citato da alcuni consiglieri proprio adesso, da discussione sul tema trattato. Quindi noi impegniamo la sindaca e gli assessori competenti a dare mandato agli uffici affinché, relativamente all'avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata al reperimento di alloggi da destinare al Sassat, di cui alla deliberazione di giunta capitolina 164-2017, di porre particolare attenzione alla verifica dei requisiti, di cui all'articolo 2,1, per tutti gli alloggi proposti ed in particolare per quelli ricadenti nei piani di zona. Quindi diciamo che l'attenzione per quanto riguarda requisiti sia soprattutto urbanistici degli immobili che sono stati proposti in risposta a questo avviso pubblico viene da questa amministrazione attenzionata e si richiede quindi particolare attenzione da questo punto di vista proprio a chi questa attenzione per competenza la deve dare. Grazie.